Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni contro i giornalisti di La Sette che la inseguono per chiederle cosa dice sull'Albania. Allora, durante i festeggiamenti delle forze armate, il 4 novembre, lunedì, c'è stata una ricorrenza al villaggio Difesa a Roma, celebrata lì, al Circo Massimo, tra eventi, simulazioni. L'Italia onora i suoi militari, all'evento prende parte anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e lì arrivano gli inviati di La Sette. C'è Ludovica Ciriello che arriva inviata dalla trasmissione L'Aria che tira. Il programma condotto da David Parenzo. Da par suo Meloni e i cronisti risponde sul 4 novembre e dice «Mi pare si sia molto attrezzati a stare al passo coi tempi». Quindi, aggiunge la Premier, è un bel modo per celebrare le nostre forze armate, anche per far capire ai nostri cittadini il lavoro straordinario che fanno per tutti noi. A quel punto l'inviata di La Sette dice «Mi risponde un attimo sullo scontro sulla magistratura? È partita una nave verso l'Albania, non sarebbe stato meglio aspettare la pronuncia della Corte Europea? Il rischio è che si blocchino di nuovo». La Meloni risponde «Non è il momento, siamo al 4 novembre», fanno notare dall'entourage del Premier. A questo punto vi dico una cosa. In ogni caso Meloni dice «Ragazzi, non ho altre dichiarazioni da fare, ho fatto la dichiarazione sul 4 novembre e non ho altro da aggiungere oggi». Ecco, allora l'inviata Ludovica Ciriello si fa la domanda e si risponde da sola e dice «Mi pare di capire però che oggi Giorgia Meloni vuole parlare solo di forze armate». Ma scrive un giornale «Ma non è al contrario che forse i giornalisti di La Sette vogliono solo parlare di scontro tra magistratura e governo, punto di domanda?». E' buona la seconda, non buona la prima, buona la seconda. Allora, parliamo di questo. La giornalista dice «Scusi Meloni, ma non era meglio aspettare la sentenza dell'Europa per mandare i migranti in Albania?». Allora, i migranti in Albania cosa vanno a fare? Vanno in un CPR, centro per il rimpatrio, dove aspettano il rimpatrio al loro paese di partenza, al loro paese, paese di provenienza. Aspettano di essere rimpatriati. Ma potevano andare anche in un CPR in Italia, dove avrebbero fatto la stessa identica cosa. Avrebbero aspettato il rimpatrio. Quindi, i CPR in Italia non sono illegali. Non sono illegali neanche i CPR in Albania. Quindi, mandare le persone in Albania o in un CPR in Italia è la stessa cosa. Perché la Meloni avrebbe dovuto aspettare una sentenza europea per cominciare le procedure di rimpatrio, come si sono sempre fatte in Italia? Perché all'improvviso bisogna aspettare una sentenza dell'Europa? Sentenza che nessun paese, nessun paese europeo aspetta. Nessun paese europeo è interessato a sentire cosa dice l'Europa sui rimpatri. Ci mancherebbe, dicono gli altri paesi, che la nostra Europa, quella formata da noi stati, ci venga a dire che non possiamo rimpatriare nessuno perché al di fuori dell'Europa tutto il mondo è insicuro. Ecco, quindi, nessun paese ha l'intenzione di sentire questa bagianata. E allora, evidentemente, secondo quelli di sinistra, la Meloni, prima di procedere a fare le espulsioni come l'Italia ha sempre fatto, adesso dovrebbe aspettare zitta zitta il risponso dell'Europa per stare agli ordini poi dell'Europa. Come vi dicevo, nessun paese europeo è intenzionato ad ascoltare le sentenze europee che dicono che i paesi non sono sicuri, quindi teniamoci i migranti. I 27 paesi europei, togliamo l'Italia 26, sono intenzionati a rimpatriare il più possibile, non a dire, ah, tutto il mondo è insicuro, allora basta, dai, chi arriva, arriva. Ma è scurdammo suo passato. E questo non va bene. Pertanto, lo dico all'inviata di La Sette, perché la Meloni avrebbe dovuto aspettare per mandare le persone in Albania? O le mandava in Albania o le mandava in Italia, ma i due CPR Italia e Albania sono esattamente uguali, sono la stessa cosa. Quindi perché la Meloni avrebbe dovuto aspettare una sentenza per fare delle procedure di rimpatrio? Cara inviata di La Sette, vuole sentirsi dire dall'Europa che tutto il mondo è insicuro, pertanto preferibilmente non si rimpatria mai nessuno più? Ecco, davvero ci sono italiani che sono contro i rimpatri? Davvero esistono persone che sia pubblicamente e anche in privato pensino che chiunque entra in Italia ha il diritto di rimanerci solo perché sì? No, solo perché sì? Davvero? Ecco. Quindi il punto è proprio questo. La sinistra e i giornalisti schierati fanno queste domande. Scusi, perché prima di mandare le persone in Albania non ha aspettato la sentenza dell'Unione Europea? Già la domanda nasconde delle assurdità. Perché la Meloni doveva aspettare l'Europa per fare i rimpatri che l'Italia ha sempre fatto? Perché all'improvviso dovrebbe aspettare? Perché i rimpatri dall'Albania non vanno bene, mentre quelli dell'Italia vanno bene? O per fermare l'accordo con l'Albania, che è un deterrente che funziona, allora facciamo sì e diciamo che più nessun migrante può essere rimpatriato perché tutto il mondo è insicuro? Cioè, per far cadere la Meloni dobbiamo arrivare a dire che non rimpatriamo più nessuno perché tutto il mondo è insicuro? Tutto questo fatto per dar fastidio e intralciare il governo di Giorgia Meloni mi sembra veramente alquanto, come possiamo dire, deprimente direi, se mi permettete questo termine. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.